Oggi vi presento Silk Silky Ciao a tutti ragazzi, come state? Sono tornata dopo tanto tanto tempo che non ci vediamo Voi sicuramente non vi sarete tanto accorti della mia assenza perché vedete sempre i video Ma quei video erano girati un po' di tempo fa e quindi per me è un po' un riabituarmi alla videocamera Se guarderò fuori obiettivo, perdonatevi, non sono più abituata ai video dopo tanti anni Allora, ho deciso di tornare con un video collaborazione Collaborazione con Silk Silky, un'azienda che tratta capi di abbigliamento in seta Quello che mi ha colpito sono le sottovesti, ora ve ne mostrerò un paio veramente bellissime Una qualità eccelsa di seta, rifiniture meravigliose, ma adesso vi dico tutto Ma prima di cominciare vi dico che con questo codice sconto riuscirete ad ottenere uno sconto Solo per voi Guardando in infobox troverete non soltanto il link al sito di Silk Silky Ma anche i link diretti ai capi che vi andrò a mostrare di qui a poco Ci tengo a dire che non è una collaborazione remunerata Cioè Silk Silky non mi ha pagato per fare il video ma semplicemente mi ha omaggiata delle cose che ho scelto E perciò se ve ne parlo, ve ne parlo perché mi sono piaciute Perché anche altre aziende mi omaggiano di cose che scelgo Ma io poi decido di non portarle in video perché non superano la prova qualità di ombretta Invece consiglio tantissimo Silk Silky Cominciamo con la spedizione Rapidissima Arriva nel giro di una settimana il pacchettino a casa Arriva confezionato con queste scatole meravigliose Quindi anche se dovete fare un regalo fate una bellissima figura Apriamolo insieme per vedere Ecco qui arriva con il certificato di garanzia Con il nome del sito e tutto ben scritto I capi sono protetti da questa carta pergaminata Ed ecco qui che si dischiude lo scrigno della bellezza Ora li prendo da qua ma tra un po' vi farò vedere anche i capi ben appesi In modo da poterne godere Non ve li faccio vedere messi addosso perché essendo biancheria intima Non mi pare proprio il caso Non ho proprio le physique du rôle Allora cominciamo subito Il primo è questa stupenda sottoveste Guardate che bella Scollo in raso di seta pura color rosa cipria Con questi inserti in pizzo bellissimi Ricamati con un sentore di lurex appena percepibile Che rendono veramente elegante questo capo Bellissimo anche il retro perché la fascia di pizzo è molto ampia E ben accollata Molto molto delicata E nello stesso tempo moderna Perché questo lurex fa rilucere veramente il vostro décolleté È bellissima sia come sottoveste Io ho riscoperto veramente tanto il piacere di indossare la sottoveste La sottoveste in raso ha una vestibilità talmente coccolosa e morbida da avere addosso Che è veramente un piacere In più fa scendere gli abitini adesso che sono un pochettino più cicciottella Questione di poco Ora ritorno in forma Datemi tempo Non criticatemi Può capitare a tutti E allora Adesso che sono un pochettino più in carne È importante che ci sia qualcosa tra il vestito e la mia pelle Che non faccia appiccicare il vestito addosso E che non segni tutti i rotolini che ci sono Con una sottoveste in raso il capo scende morbido Voi state freschi perché non avete nulla addosso che vi si appiccichi E con un capo di questo genere Apparire subito eleganti anche e curati Anche in ciò che non si vede Perché è molto importante avere sempre magari sotto uno scollo Una percezione di eleganza anche nell'abbigliamento intimo Che poi non è così intimo la sottoveste Però insomma nel ciò che appunto non è messo soltanto per fare vedere agli altri Molto spesso con le camicie, con i camicioni Io uso molto gli chemisier Si allarga un pochettino la scollatura perché non faccio una bottonatura monacale E si vede quel pizzo che lascia intravedere appunto che al di sotto c'è la stessa cura Anche nella parte esteriore che si vede Bellissima questa camicia rosa Di una punta di rosa meraviglioso acceso Così anche come bellissima E quest'altra che vi mostro in questo momento Questa è ancora più bella Ancora più morbida se possibile Un po' più lunghetta E ha questo incrocio di pizzi sul davanti Unica particolarità di cui non mi ero accorta tra le foto del sito Sono questi strassetti Di cui proprio non mi ero accorta È un colore nude Bellissimo Veramente veramente stupenda Allacciata anche nel retro Fa una figura bellissima messa addosso Se trovo la foto della modella ve la metto Però devo dire che anche se non siete modelle Fate una bella figura indossandola Vi faccio notare le rifiniture che sono veramente perfette Il taglio al seno molto particolareggiato Tutto tutto curato nei minimi dettagli E anche in questa sottoveste Lo scollo del retro è veramente bellissimo Molto elegante Molto molto sensuale Io non sono una che cerca molto la sensualità Anche nella biancheria intima Però devo dire che quando La parte sofisticata di una donna Si incontra con la parte elegante Nasce subito quella sensualità Che deriva appunto dall'essere perfetti In ogni situazione Mai volgari ma di classe Anche e soprattutto Per gli accessori che non sono messi in evidenza Ciò significa che non vi vestite per gli altri Ma vi vestite per voi stessi C'era mia nonna Che aveva una vera predilezione per le sottovesti Perché diceva Se succede qualcosa Dovete essere sempre impeccabili Non si sa mai Un ricovero Dovete andare di corso in ospedale Vi devono visitare Bisogna essere sempre impeccabili Vediamo cosa esce dalla seconda scatolina A questo proposito Ho voluto testare anche un capo di abbigliamento Un pochettino più coprente Diciamo così E allora ho scelto un bellissimo pigiama In raso di seta pura In questo colore grigio Barra azzurrato È stupendo Allora sappiate che I pigiama in seta Vi tengono freschi d'estate E calde d'inverno Oltre a darvi la sensazione Di scioglievolezza Al loro interno Di scivolosità meravigliosa Coccolosa Anche questo Una seta morbidissima al tatto Bellissima alla vista Guardate i particolari Guardate com'è cucito Tutto il bordino bianco Attorno al pigiama Guardate come sono rifiniti I bottoni Sia nella parte anteriore Ma guardate anche La parte posteriore del bottone La taschina Perfetta Cioè qui parliamo veramente Di accessori Di lusso Non sono Cose fatte Arraffazzonate Con una seta Di scarsa qualità La seta È di ottima qualità Il marchio È meraviglioso Adesso vi faccio vedere Una cosa bellissima Sul pantalone Il pantalone È davanti Alla culisse Quindi appare elegantissimo Con la sua culisse In raso E solamente nel retro All'elastico Per farvi stare comodi In modo che La notte Potete Slacciare la culisse E non avere L'elastico in vita Che vi stringe E che rende Insopportabili Moltissimi Moltissimi Pantaloni Del pigiama Ora Ditemi Se Silk Silky Non è Un'azienda Fantastica Valeva la pena Parlarvi di queste Cose meravigliose Che vi ho fatto Vedere in foto Tutte stirate Precise Perché adesso Ho fatto l'unboxing Insieme a voi Ma Meritate anche Di vedere il capo Curato In ogni suo particolare E spero di esserci Riuscita Veramente Bello Bello Questo marchio Spero di continuare A collaborare Con questa azienda Mi raccomando Approfittate Del codice sconto Che vedete In sovraimpressione Andate a sbirciare Sui link Qui giù In infobox Silk Silky Promossa Da ombretta E sappiate Che io sono Un giudice Molto 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 Severo Bene Se questo video Vi è piaciuto Lasciatevi un pollice In su Condividetelo Andate a sbirciare Nel sito Di Silk Silky Tenetelo presente Anche per i regali Di Natale Lo so che è agosto Ragazzi Ma adesso avete Il codice sconto E da agosto A dicembre È un attimo Ve lo garantisco Quindi Pensatelo Anche per degli Elegantissimi Regali di Natale E capodanno Sottanine rosse Cose carine Guardate nel sito Troverete Una moltitudine Di articoli Interessantissimi Io spero Che questo video Vi sia piaciuto Noi ci rivediamo Presto Con un haul Bellissimo Il mio haul Estivo Vi faccio vedere Tutti gli acquisti Che ho fatto Quest'estate Non ho voluto Mischiare le cose Che mi sono state mandate Con le cose Che Ho comperato io Proprio per darvi La possibilità Di scegliere Quale video Aprire E non Mettere tutto In un unico video Quindi Aspettate il prossimo video Che è senza Alcuna collaborazione Ma ricordatevi sempre Che se io Vi suggerisco Un'azienda È perché Io stessa La trovo Fantastica Cioè Io ci comprerei Io ci comprerò Sicuramente Bene Vi dando Un grande bacio Proseguite La vostra estate Divertendovi E rilassandovi E noi ci vediamo Sempre qua Per un prossimo video Ciao